Cari amiche e cari amici, il decimo toro come sapete ha continuato a mantenere e manterrà i riflettori puntati sul caso Bibiano, guai a chi tocchi a Bele e sempre dalla parte dei bambini. Vado a leggervi un articolo di oggi, 27 agosto, che potete trovare sul giornale.it, ve ne farò una sintesi, è a firma di Costanza Tosi e si intitola Se il Partito Democratico tornerà al comando, insabbierà il caso Bibiano. Sottotitolo, il ministro della famiglia annuncia due nuovi protocolli per esaminare i casi sospetti pensati in modo che vadano avanti indipendentemente dal governo in carica. E questo è un ottimo lavoro, cari amiche e cari amici, che ha fatto la leghista Alessandra Locatelli, proprio presa atto della situazione. Fare in modo che alcuni protocolli vadano avanti indipendentemente di chi sia al governo. Leggo l'articolo, vado avanti. La leghista Alessandra Locatelli, ministro della disabilità e della famiglia, che nelle ultime settimane ha seguito da vicino il caso degli affidi, ha dichiarato in un'intervista al giornale La Verità Più il tempo passa, più le segnalazioni di nuovi presunti casi di mala gestione degli affidi dei minori continuano ad aumentare. Ma dagli esponenti del Partito Democratico, finito sotto accusa per la presenza di tre sindaci DEM nel registro degli indagati, finora nessuno si è occupato del caso per cercare di fare chiarezza e rendere giustizia alle famiglie vittime dello scandalo. Un silenzio, quello di sinistra di Zingaretti, che molti non hanno accettato, insinuando che fosse una tattica per insabbiare la questione. Quello che sta emergendo è che la popolazione vuole sapere qualcosa e chi è sul posto e se ne occupa direttamente tende a non parlarne più. In realtà il Partito Democratico dell'Emilia Romagna, tempo fa, ha istituito una commissione d'inchiesta proprio per fare chiarezza sul sistema finito sotto accusa, ma anche in quel caso non sono mancati segnali che facessero pensare che qualcuno voglia nascondere la sabbia sotto al tappeto. Appropriatisi delle indagini, escludendo il centrodestra, che primo peraltro ha chiesto che fosse istituita una commissione per fare chiarezza sui fatti, sarà proprio il Partito Democratico a decidere come dirigere le indagini in cui sono convolti proprio alcuni dei loro uomini. Dichiara la Locatelli. È ridicolo il fatto di voler tenere fuori dall'ufficio di presidenza, che è quello principale, quello che ascolta e decide le audizioni da fare e traccia il percorso dell'indagine, una parte politica rilevante come quella di centrodestra e della Lega, che ovviamente ha posizioni differenti e divergenti rispetto a quello che sta emergendo. Ho chiesto più volte di incontrare Stefano Bonaccini, governatore del Partito Democratico dell'Emilia Romagna, ma non mi ha mai risposto. Noi della Lega, a partire da Matteo Salvini, non faremo calare il sipario su questa vicenda, manterremo i riflettori accesi. Intanto, in attesa di risposte, la Locatelli svela numeri allarmanti. 179 segnalazioni solo in un mese da parte dei genitori, avvocati e associazioni per denunciare presunti casi gemelli a quelli di Bibbiano. A questi vanno aggiunte tutte le denunce che arrivano dal Dipartimento Famiglia e tramite social network e altri canali. Un campanello d'allarme a cui la Lega ha deciso di dare ascolto. Continua la Locatelli. Abbiamo appena realizzato due protocolli, uno con il Ministero dell'Interno e uno direttamente con i Carabinieri. Saranno attivati due tavoli per la valutazione diretta di tutti i casi che ci sono stati segnalati. Tutte le segnalazioni verranno gestite da personale competente, preparato e professionale. I casi esaminati verranno passati alla Procura oppure alle Prefetture competenti, come abbiamo già fatto per alcuni casi molto urgenti in modo da dare risposte immediate. Quanto al tavolo con i Carabinieri è già fissata la prima convocazione per il 12 settembre. Protocolli pensati tenendo conto anche del destino incerto della dirigenza del Paese e studiati in modo che possano continuare a essere attivi ed efficienti in qualsiasi condizione e con qualsiasi governo. In conclusione il silenzio assordante dello stesso Partito Democratico, di nuovo in corsa per la guida del Paese insieme ai 5 Stelle, non fa assolutamente ben sperare. Io col partito di Bibbia non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie, i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare e sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti, perché forse erano d'accordo su alcuni provvedimenti. Io credo che su questo noi dobbiamo esigere rispetto come Movimento 5 Stelle. Mala Tempora Current, cari amiche e cari amici. Questo è quanto, se vi è piaciuto il servizio un bel pollice su e mi raccomando per un'informazione intelligente sempre incollati al decimo toro. Ciao a tutti.